Ben ritrovati, gentili telespiratori, una nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura andiamo a San Donato di Piave, nuove amministrative con il balottaggio e quindi il nuovo sindaco di San Donato di Piave è stato riconfermato Andrea Cereser, sindaco del Partito Democratico, centro-sinistra, come sfidante Francesca Pilla del centro-destra. Ora Cereser a fresco o a caldo ha voluto rivadire che i prossimi 5 anni saranno 5 anni di lavoro per mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Ma andiamo a sentire proprio le sue parole, proprio dopo poco che è stato eletto nel servizio di apertura del nostro telegiornale. In realtà noi siamo più interessati al futuro e quindi a vedere come imposteremo questi 5 anni, dove abbiamo la responsabilità di rispondere alla fiducia che è stata data, al mantenere le promesse che sono state fatte, ma sono convinto che se avremo lo spirito con cui siamo arrivati sino a qui, riusciremo a fare tutto quello che abbiamo detto e quindi questo è sicuramente positivo per me, anche con la consapevolezza di non essere solo, ma attorniato da un grande numero di persone di gran cuore, di gran competenza e anche serietà. Siete però un'eccezione, non mi parla nazionale. Siamo un'eccezione, io penso che possa essere interessante cercare di capire come siamo arrivati a questo risultato e soprattutto perché abbiamo dimostrato che si può fare politica senza necessariamente sbraitare o delegittimare l'avversario o denigrarlo, ma concentrandoci sulle proposte, sui contenuti e anche su un modo che cerca di far sì che ogni cittadino si senta appartenere a una comunità, a una città e possa dire la sua ed essere anche protagonista. Qui il centro-destra non era unito, questa cosa forse in parte è verità. Sicuramente il fatto di aver assistito a queste lotte all'interno di due grandi ambizioni, soprattutto e senza un reale interesse e passione per la città ci ha aiutato, non c'è dubbio. Però devo anche dire che sin da luglio dell'anno scorso, quando è cominciata questa campagna elettorale, il mio appello è stato per tutti i cittadini di buona volontà, disponibili a impegnarsi per una città su temi che spesso non sono né di destra né di sinistra, ma appartengono appunto a ciascuno di noi. E quindi io sono contento anche di questo risultato e della risposta che c'è stata. Da dove si riparte? Si riparte tirando un bel sospiro, prendendosi qualche giorno di riposo e poi cominciando nella scelta di una squadra che sa che tipo di lavoro lo attende per intensità, per impegno, però consapevole che non si è da soli. Il programma è quello che abbiamo depositato, per il quale siamo stati votati e quindi la linea è preciata. Adesso si tratta di mettere in atto e praticare quello che abbiamo già scritto. Allora, senza per forza poter salire in cattedra, però questo può dare in qualche modo qualche indicazione per un centro-sinistra che sembra veramente in crisi e in difficoltà, cioè si può ripartire dalle esperienze che funzionano? Qual è la lezione che può dare questa esperienza? Si riparte dalla gente, si riparte da quelli che sono i bisogni veri, non si può pensare di scrivere un programma elettorale all'interno di una stanza che sia di partito o di coalizione, deve nascere da effettivi bisogni e questi dipendono dal numero, dalla intensità, dalla qualità delle relazioni che siamo riusciti a tenere, sia con semplici cittadini, entrando nelle case con i famosi filò, sia con le imprese, sia con le associazioni di categoria. Ciascuno ha dato un importante contributo per cui il programma che noi ci impegniamo ad attuare non è il programma del sindaco, ma il programma di un'intera città che ha dato delle indicazioni chiare. L'abbiamo vista anche in queste ultime settimane in particolare, spesso in piazza, al mercato, a stringere mani alle persone. È un'idea un po' diversa questa da quella che si è vista a volte nel centro-sinistra di fare magari convegni con professori universitari, grandi studi, piani, eccetera, con figure anche di spicco che però sono un po' scollegate dalla realtà di tutti i giorni. Con un buon equilibrio ci vuole questo e quello, ci vuole il momento in cui si riflette sulla città, si dà delle indicazioni, si traccia una visione della città, ma poi anche la necessaria attività di convenzione e di condivisione con i cittadini, perché uno sguardo va rivolto sicuramente alle stelle, ma l'altro anche al marciapiede. Quindi mettere insieme, fare sintesi di questi elementi, accompagnare la città in un momento storico difficilissimo, com'è questo, ecco, sono tutti elementi che devono stare in equilibrio tra loro. Ho detto prima con una battuta, visto che è anche il centenario della fine della prima guerra mondiale, avete pensato la linea del Piave. Sì, per noi è un momento storico importante, perché sono questi i giorni della centenario della battaglia del Sostizio, la seconda battaglia del Piave, quella che di fatto ha tenuto il fronte e alla fine è stato il presupposto per la battaglia della Vittoria, quella di novembre, di Vittorio Veneto. E quindi questo parallelismo sicuramente è significativo, suggestivo e anche riempi di convenzione. La cronaca ci porta a Pramaggiore, un silos che brucia con gli scarti di lavorazione, una notte di paura a Pramaggiore per l'incendio alla Italdeco, l'allarme scattato poco dopo le 23 ancora di sabato grazie a un passante che ha notato quel fumo che si sprigionava verso l'alto. A bruciare il silos dell'azienda di Via Pacinotti, nella zona industriale di Bressaglia, che si occupa della verniciatura di mobili. Dal comando metropolitano di Venezia dei Vigili del Fuoco sono state attivate le squadre giunte a Pramaggiore in forze. Sul posto infatti si sono precipitati in sequenza i pompieri di Pordenone, quelli di Motta di Nivenza, arrivati con due mezzi e altrettanti con i colleghi di San Donà. Fondamentale l'invio anche di un'autoscala arrivata da Mestre, che ha permesso ai soccorritori di monitorare dall'alto l'evolversi dell'incendio e di raffreddare. Poi l'impianto, le squadre hanno lavorato ininterrottamente per quasi due ore. E parliamo allora, abbiamo parlato prima della situazione politica, amministrativa, con un caso unico, più che raro, insomma, quello di San Donà. Ma il caso politico nazionale e a questo punto anche europeo, se non internazionale, appunto, della decisione del Ministro degli Interni Salvini di ribadire il no a chi cerca di entrare in Italia illegalmente, beh, vede sposare inevitabilmente, direi anche, il Presidente del... vede sposare la decisione anche del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ribadisce che chi entra in Italia entra in Europa e quindi siamo un fronte unico, cioè la frontiera non è esclusivamente quella italiana ma quella europea. Ma sentiamo le parole di Luca Zaia. Adesso, in questo momento, anche riguardo a quelli che sono qua e la possibilità di riportarli là, che forse è la più lontana in questo momento per vari motivi. Beh, è riconosciuto che il Veneto è il miglior modello di integrazione a livello nazionale. Non lo dicono i veneti, ma lo si dice a livello nazionale. Dall'altro, dobbiamo prendere atto che negli ultimi 4 anni sono arrivati in Italia 654.000 migranti e sappiamo che solo il 7% di questi migranti, dei 654.000, sono stati riconosciuti come rifugiati, quindi come profughi, cioè sono scappati da morte e dalla fame. Per cui è fondamentale sostenere questa nuova azione di governo che finalmente pone la questione a livello comunitario. Chi entra in Italia non entra in Italia ma entra in Europa, ma è anche la volontà di avviare i reimpatri e tutti quelli che non hanno titolo. Non possiamo dimenticarci che 2 milioni e mezzo dei cittadini italiani si sfamano alle mese dei poveri e quasi il 10% dei cittadini italiani, circa 6 milioni di cittadini, stenta a sbarcare lunare o arrivare a fine mese. Quindi questi sono quelli che sono i nostri riferimenti. Prima vengono i nostri cittadini e poi quelli del resto del mondo. E adesso andiamo a moto di Rivenza. Luca Curtarelli è andato a vedere l'evento di Happy Day, una grande festa nel cuore della cittadina bagnata da Rivenza. Ci troviamo qui a Piazza del Stato di Motta di Rivenza per l'Happy Days. Ecco con noi Marco Andrighietto, uno degli organizzatori. Cosa è Happy Days? Happy Days, niente, si ritorna agli anni 50-60. A Motta di Rivenza, in centro storico, dove è nata la storia dell'Italia. I centri storici sono famosi, è cresciuta l'Italia nei centri storici. E ho voluto portare Happy Days qui perché secondo me è un portare l'Italia dove è nata. Con dei miei amici, vecchi amici, collaboratori, con delle gran moto e gran macchine. Insomma una grande America anni 60 e la rinasce l'Italia proprio negli anni 60. Questo vuoi dire? Forza. Questo è. Dopo guerra si rinasce con bei mezzi, con voglia di far festa e allegria specialmente. Cosa fate in particolare oggi? Oggi adesso viene eletto Mr. Fonzi, poi c'è Miss Pin-Up. Mr. Fonzi deve mettere in moto un Indian, Gianvi? Nel 1941. Un 6,50 bicilindrico. Perché Fonzi oltre ad avere l'aspetto, diciamo così, da figlio, insomma, doveva mettere anche in moto questa moto. Lui aveva un Harley e aveva una Trail, però oggi facciamo con un Indian, che è una gran moto sempre. Insomma, appuntamento sicuramente anche al prossimo anno, vero? Sì, sì, ce la mettiamo tutta. Ad Annone Veneto invece ci si prepara per i 34 anni di storia che la mostra degli Osei ha ormai alle spalle. Lui Aldo Curtarelli ha sentito il presidente della mostra e andiamo a capire come si evolverà l'evento. Con Marcellino Baragagnolo, presidente della Fiera di Osei di Annone Veneto, manca poco al via la prossima edizione della Fiera, state lavorando soprattutto sulla sicurezza. Intanto come stanno andando le cose? Buongiorno a tutti. Diciamo che la Fiera di Osei sta lavorando, il comitato sta dandosi da fare sempre di più, perché la sicurezza è imponente. Quindi diciamo, su tutto il programma della Fiera, ma un po' tutte le associazioni, penso, hanno il grosso problema. Noi abbiamo un po' di più, quindi la sicurezza ci sta portando via una montagna di tempo. La Fiera di Osei sta facendo il massimo, anche ieri sera su un incontro con la pubblica amministrazione, con i vigili. Abbiamo lavorato su queste cose qua, perché la Fiera di Osei è arrivata alla sua 34esima edizione e quindi è una cosa un po', diciamo, vista da tutti, un po' grossa. Ecco, come si chiama? Voi iniziate il venerdì con la mostra. Quest'anno, il tema della mostra? Allora, quest'anno la mostra è la flora, la fauna dalla montagna alla laguna Veneta. Quindi faremo un passaggio dalle Dolomiti alla laguna di Caorle. Ecco, e le date? Allora, inaugurazione il 24 alle 19.30 e aspettiamo tutti quelli che hanno voglia di venire. 24 agosto, ricordiamo. Sì, 24 agosto. 19.30, inaugurazione a mostra. Dopo, diciamo, sui più tardi ci sarà la serata giovani. Il sabato prepariamo per la domenica. La domenica ci sarà la grande fiera, come tutti gli anni, con delle novità. Ecco, intanto, in attesa delle novità, diciamo, interi spettatori, che la fiera di Ogei si farà. E nonostante tutti i problemi, non siete gli unici. No, no, l'ho detto prima, l'ho detto prima. Tutte le associazioni, chi più o chi meno, è presa da questa cosa. Diciamo che quelle un po' più grandi hanno un po' più problemi. Perché sai, con la sicurezza, anche con il discorso degli incendi, di tutte quelle cose, i capannoni. Quindi siamo arrivati a un livello che non è più, secondo me, non è più un'associazione tra amici. La fortuna è che siamo rimasti amici, perché se no non ci sarebbe più niente. Ma c'è troppo, troppo, troppo impegno. Comunque i cuochi sono lì che aspettano che venite a mangiare, no? Sì, sì, sì. Noi il programma l'abbiamo già messo su, già messo giù. Tra poco andremo in pubblicità, quindi andremo fuori con i volantini, con tutto quanto. Quindi il programma è fatto. La cucina è sempre quella, se no pensiamo quasi di migliorarla un po', se ci riusciamo. Se no manteniamo il ritmo dell'anno scorso, il mangiare più o meno è sempre quello, cambierà un qualcosa, aumenteremo un qualcosa, mai qualcosa altro di novità. Ma siamo lì, siamo lì, abbiamo delle novità anche nelle manifestazioni della giornata di domenica. E quindi speriamo che sia sempre una bella giornata. E un ringraziamento già adesso, lo faccio subito perché è giusto farlo, agli amici sponsor, o agli amici della Fiera di Rai, come li chiamo io. Non li chiamo più sponsor, li chiamo sostenitori della Fiera di Osei. Torniamo a Sant'Ona di Piave, è terminato il restauro conservativo, il monumento ai caduti di Passarella è tornato all'antico splendore. Si tratta del complesso monumentale della frazione, caratterizzato da un obelisco di pietra d'istria, alto oltre 4 metri e con freggi in bronzo, posto sul sagrato della chiesa parrocchiale dedicata alla presentazione della Beata Vergine Maria. L'intervento ha riguardato la pulitura degli elementi lapidei, il loro consolidamento tramite iniezioni di malta micronizzata, la pulizia e la protezione delle componenti in bronzo. E inoltre è stata riparata anche la scalinata, eliminate le infiltrazioni d'acqua, ripristinate le iscrizioni deteriorate o mancanti esterne, a completare il tutto un nuovo tappeto verde. Il lavoro di ripristino era iniziato con lo scorso 2 maggio, a cura della ditta Diego Malvestio di Concordia Sagittaria, per un costo complessivo di 13 mila euro, a seguito di un accordo tra il comune, la parrocchia e la curia di Treviso. Andiamo a Ponte di Piave invece, c'è stata una festa per la cantina dei viticoltori di Ponte, sono risuonate le note anche del Piave tra gli applausi di tutti, andiamo a vederci allora e a sentire queste incredibili note appunto del Piave a Ponte. Ponte di Ponte di Ponte di Ponte Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.